Scusate, sono quelli che parlava prima di... non avevi visto quella ragazza di gente... Scusate, ma dove siete uscite tutta questa gente? Siete troppi? Io non l'ho avuto manca a non sciopero tutta questa gente! Siete veramente troppi! Se non sentite bene, lasciate l'indirizzo e fa scomare la casa! Siete stupendi, fatevi un applauso da soli! Veramente! Fortissimi! No, no, la gente di stanza ha pulito! La gente ha avuto mangiare la pasta di stanza! Io prima di continuare volevo ricordare che tutte queste strutture, queste cose... Da cinque anni esiste questa sacra della pasta, però il primo anno che si fa dentro un campo sportivo è diventata veramente una cosa sportiva, invece fino all'anno scorso l'hanno fatto in piazza però moltissima opera è del presidente di questa situazione, lui si chiama Agostino e merita veramente un ringraziamento forte da parte di tutti insieme a quelli che hanno fornito la pasta, gli sponsor, eccetera, eccetera insieme all'impresario...